La pista ciclopedonale che collegherà Montecchio e Bottega è ufficialmente aperta. Sono oltre 2 i chilometri di questa pista, che vedete anche qua alle mie spalle, che i cittadini di Vallefoglia e non solo potranno iniziare ad usufruire. Uno strumento che permetterà anche una mobilità sostenibile, una riduzione dal punto di vista anche della mobilità per quanto riguarda macchine, anche per quanto riguarda i mezzi pubblici. Non solo questo, perché anche la pista che è stata appena creata permetterà in alcuni punti strategici della città, per quanto riguarda anche le traffiche, per quanto riguarda le macchine, di rallentare la velocità e quindi anche una maggiore sicurezza. È l'apertura di una pista ciclopedonale che la gente aspettava non so da quanti anni, alcuni dicono da 20-30 anni, e che unisce i due escomuni, col Bordolo e Sant'Angelo in Lizzola, Montecchio-Bottega, che unisce la Casa della Salute con il polo scolastico di Bottega, al polo scolastico di Montecchio, unirà il nuovo comune già in stati lavori e il nuovo teatro a bottega, consentirà soprattutto ai giovani, alle ragazze, alle persone più anziane, più adulte, di percorrere in sicurezza, perché come vedete la pista è fortemente isolata, si è stretta anche alla carreggiata, quindi andranno anche più piano, e quindi sono quasi due chilometri di pista per un investimento importante che ha creato lavoro, hanno lavorato tante imprese, circa 500 mila euro, e vi aspettiamo sabato prossimo, sempre in maniera sobria, senza assembramenti, con la mascherina, con le distanze, per l'inaugurazione di Piazza Rossini, che è stata rimessa nuova a Bottega e che quindi unisce di nuovo ancora di più, perché l'unione fa la forza, i ponti uniscono, non dividono, e noi pensiamo che in un momento di Covid così drammatico, più c'è coesione, più c'è comunità, più si lavora insieme, meglio è. Il progetto è stato curato dall'ingegnere Alessandro Gorini, noi abbiamo fatto la regia, diciamo, sia del progetto che dei lavori, come comune. È un progetto che nasce con molteplici valenze e funzioni, perché da una parte ha una funzione sociale, perché, come si diceva, collega fisicamente, anche in questo passaggio attraverso il ponte, ex comuni di Sant'Angelo e di Colbordolo, ma ha una valenza anche ambientale, perché vuole incentivare la mobilità alternativa all'utilizzo dei veicoli, quindi la bici, la mobilità pedonale, che permetterà ovviamente di ridurre anche le emissioni di CO2 in atmosfera, quindi i polveri sottili. Ha una valenza anche dal punto di vista della sicurezza del traffico, perché attraverso il ristringimento fisico e visivo delle careggiate contiamo di avere un maggiore scorrimento più lineare dei mezzi, ma a velocità molto più ridotte, quindi un miglioramento anche delle condizioni per le utenze deboli della strada, quindi pedoni, bambini, anziani e così via. Quindi è un progetto che assume moltiplici funzioni e che è stata una priorità per l'amministrazione comunale, proprio per questo motivo qua.